50 parcheggi, dopo quando i guidatori sono... Cora Fattori e Filippo Borioni con lo scopo di portare alla luce progetti concreti a sostegno della città di Fano hanno illustrato in un convegno un nuovo progetto per l'ex caserma Paolini in una visione d'insieme per la città di Fano. Il progetto prevede di non insediare la caserma dei carabinieri nell'edificio in quanto soluzione costosa e che smorzerebbe le potenzialità di tutta la struttura. L'idea progettuale presentata dai relatori al convegno prevede un aumento notevole dei posti auto, circa 520 totali, attraverso la realizzazione di una struttura interrata ad alta capienza, generando un importante servizio ed una valorizzazione degli immobili circostanti, punto focale per la rinascita del centro storico. C'è già un'idea di progetto demaniale riguardante questa area molto importante per la città. Noi abbiamo portato una presentazione alternativa di riqualificazione. Abbiamo una visione che preveda un parcheggio interrato su due piani e una piazza pulifunzionale sopra, una riqualificazione di via Palazzi. Quindi un allargamento del centro è uno spazio veramente importante per gli esercenti e per tutta la città. Un modo per far diventare Fano una vera città e allontanarla dall'idea di un paesone. L'accessibilità facilitata al centro e alle attività commerciali è una delle condizioni condizioni obbligatorie per la ripresa economica nel cuore della città. Imprese che spesso oltre alla crisi devono combattere ad armi impari contro le attività invece che si trovano nei grossi centri commerciali che invece nella facilità di parcheggio e di accesso e nella diversificazione dell'offerta fanno uno dei loro punti di forza. Si parla molto spesso di crisi del commercio, si parla molto spesso di attività in difficoltà. Ecco noi con delle idee concrete, con dei progetti, con una visione che parla nel concreto intendiamo portare all'attenzione un aiuto fondamentale. Non fare in modo che i parcheggi del centro vengano bruciati ma in questo modo vengano implementati portando realmente un aiuto alle attività del centro città di Fano.